Ed eccoci qui ad un nuovo video sempre dedicato alle vostre domande e alle mie risposte. Allora, Cenzia non trova il tasto aggiorna andando qui su inserisci nella versione gratuita di Excel Online. Aggiorna non è su inserisci ma è su dati. Sulla versione normale se andiamo su inserisci non abbiamo il tasto aggiorna perché è su dati. Quindi svelato l'arcano semplicemente nell'altra scheda. In questo caso, in generale, comunque, Excel Online, versione gratuita, è gratuita però è limitata. Quindi ogni tanto qualche funzionalità più o meno importante non c'è. Lo dico, tutte le funzioni, o meglio le formule di Excel che scrivi nella cella qui su Excel Online ci sono. Quelle che potrebbero mancare invece sono le funzionalità che hai qui nella barra multifunzione. Quando manca una funzionalità importante per te potresti andare su componenti aggiuntivi, vai su store e cerchi qui dentro se magari hanno fatto l'add-in con tale funzionalità. Spesso sono gratuiti, alcuni sono a pagamento. Se andiamo a guardare nei miei componenti aggiuntivi noterai che ne ho parecchi. Alcune di queste funzionalità non sono presenti su Excel Online di base, ma sono presenti sull'Excel vero e proprio. E come vedi ho risolto appunto inserendo i componenti aggiuntivi che per fortuna hanno sviluppato. Rimuovi i duplicati di default non c'è su Excel Online, ma per fortuna c'è l'add-in gratuito e posso rimuovere i duplicati. Per oggi è tutto, se hai qualche domanda puoi rivolgerla a domande-masterexcel.it Ed io ti aspetto nel prossimo video. Ciao!